Torna a Pesaro all'interno del Parco San Bartolo la seconda edizione di Winetour, uno dei format di successo dedicati all'ambiente, che vede al primo posto temi come il turismo outdoor e la scoperta consapevole della natura. L'evento si svolge tutto nel borgo di Fiorenzuola, in diversi spazi. I talk un po' più importanti sono al campanile di Sant'Andrea nella parte alta, dove installeremo un palco panoramico molto bello. Poi ci saranno incontri e laboratori all'interno della sede del Parco, nella parte bassa, e poi in Piazza Dante avremo tutta la parte espositiva e l'info point dal quale partiranno laboratori, escursioni, birdwatching, visite guidate e varie ed eventuali. Tutti gli eventi sono gratuiti e per alcuni, tipo i laboratori e le escursioni, c'è una prenotazione da fare e trovate tutti i contatti sui materiali e sul sito. L'azienda Swarovski Optic torna a fianco del comune di Pesaro per il secondo anno consecutivo, presentando però due grandi novità. Un binocolo digitale dotato di un particolare software capace di identificare animali selvatici solo inquadrandoli e la prima sedia rotelle 4x4 per chi ha ridotte capacità motorie. Ci è sembrata una combinazione ideale ed è il motivo per cui siamo qui anche per il secondo anno consecutivo con un format che prevede dibatti di scientifici ma anche tante escursioni, secondo questo schema che spiegavo prima. È una formula che abbiamo voluto ripetere aggiungendo appunto questa della collaborazione con Zoom per la presentazione di questa carrozzina per disabili che permette anche di andare fuori strada. Domenica 7 maggio, nella giornata conclusiva della manifestazione, alle ore 18 al Campanile San Andrea, Fiorenzuola di Focara verrà premiata come uno dei borghi più belli d'Italia. Domenica, grande festa a Fiorenzuola, si aggiunge un riconoscimento di qualità per uno dei borghi davvero più belli d'Italia come Fiorenzuola e per il Parco San Bartolo che è uno dei luoghi magici che abbiamo da offrire anche in vista dalla Capitale Italiana della Cultura. Capitale Italiana della Cultura è già di per sé un grande riconoscimento che si rafforza con questo riconoscimento per i borghi più belli d'Italia, una rete molto frequentata che darà sicuramente al nostro territorio una competitività turistica ancora maggiore.